Ciao a tutti, io sono Sascha Rizzo e oggi vi parlerò di un argomento che spesso è centrale quando guardiamo il telegiornale e spesso se ne sente parlare anche addirittura al bar. Questo argomento è il PIL, o meglio, il prodotto interno lordo, uno dei dati macroeconomici più importanti di tutti. Cos'è quindi il PIL? Diamo una definizione di PIL. Il PIL in sostanza è semplicemente la somma di tutti i beni, di tutti i servizi realizzati all'interno di un certo Stato in un certo arco di tempo, solitamente viene considerato un anno. Il PIL può essere anche inteso come lo stato di benessere di un certo paese o come lo stato di salute dell'economia di un certo Stato, appunto. Un fattore molto importante da considerare è che quando si parla di prodotto interno lordo, quindi di PIL, si parla solo a livello geografico e non a livello di nazionalità. Questo vuol dire che se ci fosse, ipotizziamo, un'impresa americana, la sua produzione di una filiale italiana sarà PIL italiano, costituirà PIL italiano, non PIL americano, e viceversa, nel caso avessimo una società italiana che apre una filiale in America, la produzione relativa alla filiale americana sarà PIL statunitense e non italiano. Ora, una domanda che può venirci spontanea è perché si parla di prodotto interno lordo e non di prodotto interno netto? Allora, il lordo significa che si considerano, in questo caso specifico, gli ammortamenti, nel senso che il prodotto interno lordo considera gli ammortamenti, invece il prodotto interno netto non considera gli ammortamenti. E cosa sono gli ammortamenti, però, di che cosa? Gli ammortamenti sostanzialmente sono una perdita di valore causati, per esempio, dalla vecchiaia di un impianto. Quindi cos'è? È sostanzialmente la perdita di valore del sistema produttivo delle aziende. Perché? Perché i macchinari delle aziende perdono valore e quindi bisogna investire per rinnovare queste strutture, questi macchinari. Quindi, ora che abbiamo capito che cos'è il PIL, abbiamo capito che è relativo alla geografia di un'impresa, quindi dove è collocata a livello più geografico, ora che abbiamo capito quindi perché si parla di prodotto interno lordo e non di prodotto interno netto, la domanda che ci può venire spontanea è come si calcola il PIL. Allora, esistono più metodi per calcolare il PIL. Quello più utilizzato, tuttavia, è il metodo della spesa, che sostanzialmente consiste in una formula molto semplice, una formula matematica, che è Y uguale C più G più I più NX. Però, cosa sono tutte queste lettere? Cosa sono tutte queste lettere, appunto? Allora, Y ovviamente è il PIL, C sono i consumi, G è la spesa del governo, quindi la spesa pubblica, I sono gli investimenti, ovviamente, all'interno del paese, e NX è la differenza, tra che cosa? Tra l'export, il totale dell'export, e il totale dell'import, che ovviamente ha una sua influenza sull'economia di un paese. Come ho anticipato prima, il PIL può essere inteso come un indicatore, appunto, macroeconomico, utile per capire lo stato di salute, quindi di benessere, di un'economia, quindi di un paese. Però, perché è così importante? Nel senso, com'è che si fa a capire lo stato di salute di un'economia, di un paese? Allora, è molto semplice in realtà, nel senso che, per farlo, basta prendere il PIL di un certo anno, per esempio, prendiamo il PIL del 2018, e lo confrontiamo con i PIL degli anni precedenti, così capiremo se si è incrementato o decrementato rispetto agli anni, appunto, passati, e capiremo se c'è un miglioramento o un peggioramento dello stato di salute dell'economia del paese in questione. Tuttavia, gli economisti non confrontano il livello del PIL solo ed esclusivamente con i dati del passato, ma ovviamente lo confrontano anche con i dati delle previsioni future, nel senso, se io prevedo che tra un anno il PIL sarà X, aumenterà o diminuirà rispetto al PIL di oggi, e così capisco se l'economia, tendenzialmente, in base alle mie analisi, sta andando bene o male. Un'ulteriore cosa molto importante di cui credo sia necessario parlare, parlando appunto del PIL, è il PIL pro capite, siccome spesso il PIL pro capite accompagna le tematiche comunque del PIL, spesso se ne parla al telegiornale, spesso se ne parla al bar, se ne parla un po' dappertutto. Quindi, che cos'è il PIL pro capite? Allora, il PIL pro capite è semplicemente la divisione del PIL, quindi del prodotto interno lordo, per la popolazione di un certo paese. Per fare un esempio, l'Italia nel 2018 aveva un PIL, quindi un prodotto interno lordo, pari a circa 2.084 miliardi. Invece, il PIL pro capite era pari a circa 34.000 euro. Questo cosa vuol dire? che prendendo il PIL italiano del 2018, dividendolo per la popolazione italiana del 2018, veniva circa 34.000 euro a testa. Quindi è importante considerare come anche il PIL pro capite, insieme appunto al PIL, sia un dato molto considerato dagli economisti nelle loro analisi, appunto proprio per capire lo stato di benessere di un paese, oltre che della sua economia. Ora, per concludere, io vorrei sottolineare quanto il PIL sia importante. Il PIL è importantissimo, quando si parla di economia, perché appunto è uno dei dati macroeconomici più importanti che viene considerato appunto dagli economisti, ma in ogni caso riguarda tutti noi, nel senso che un PIL che sostanzialmente spinge indica un'economia che va bene, quindi indica uno stato di salute appunto dell'economia e quindi di conseguenza anche delle finanze della popolazione. Quindi ci tocca direttamente questa cosa del PIL, è una cosa che ci tocca proprio nelle nostre tasche, tocca alle nostre tasche. Quindi è fondamentale avere coscienza di che cos'è il PIL. Come cittadini proprio e poi come trader o comunque qualunque lavoro si faccia è fondamentale sapere che cos'è il PIL per capire le dinamiche che avvengono all'interno del nostro stato appunto. Con questo è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto, spero che possa essere utile in qualche modo. Vi chiederei gentilmente se potete lasciare un like nel caso appunto vi sia piaciuto. Io in ogni caso vi auguro un buon proseguimento. Ciao a tutti!